La televisione è in continua evoluzione, per alcuni sta andando verso internet, verso l'interattività, verso la convergenza con gli altri media, per altri invece rimarrà sempre quello che è e non cambierà mai, non farà mai cambiare il ruolo di catch potatoes dei telespettatori ormai allenati a stare seduti sulle loro sedie senza interagire. Ma non è solo questo, c'è molto molto di più. Ne parliamo questa sera a DigiTalk, sigla. Buon lunedì sera e bentornati con noi a DigiTalk, dico bentornati ovviamente ai telespettatori che ci seguono sempre. Oggi è una puntata un po' matriosca, stavo dicendo televisione, è un lapsus che oggi ci sta, oggi va bene, perché si parla di tv in tv, non è ovviamente l'unica volta che succede, però qui a DigiTalk sì. Parlare di tv a DigiTalk significa ovviamente parlare di tv anche digitale, già dal nome. E lo facciamo oggi con ospiti in grado di spiegarci dove sta andando la televisione e quindi quale sarà la tv del futuro. Ve li presento, lo facciamo insieme a Giuseppe Mascitelli, che è amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione e di Alboran S.P.A. insieme a Giorgio Grignafini, mi scusi, responsabile di Fiction Canale 5, Laura Tettamanzi, che è esperta di tv digitale, di Tribe Interactive, e Gianluca Rentocchini, che è l'amministratore delegato di ETV. E quindi insomma il nostro amministratore delegato lo interrogheremo, cercheremo anche noi di scoprire dove stiamo andando un po' tutti. Allora Laura, Laura Tettamanzi, noi ci diamo del tuo anche adesso in video, va bene? Ecco, tu sei un'esperta in televisione, lo sai perché, lo sai proprio, e poi sei anche riconosciuta come tal, insomma, io quando vado ai convegni sulla tv, non manchi mai, ci sei sempre, ti invitano sempre, ci sarà un perché, no? Oltre a essere una bravissima professionista. Iniziamo dal titolone, dal titolo. Dove sta andando la televisione? Io allora, prima di tutto vi ho portato la rivista Wired, che è la Bibbia della cultura digitale, diciamo una rivista nata a San Francisco, nel clima underground, la prima rivista che ha parlato di digitale. Il numero di settembre è totalmente dedicato alla televisione, e la sigla un po' di questo grande articolo è Reinventing Television. Allora, l'ipotesi di Wired, non è l'ipotesi di Wired, ma è un po' l'ipotesi di tutti gli esperti, è che in un contesto in cui il consumo di televisione, di contenuti televisivi, è sicuramente destinato ad aumentare, perché secondo gli ultimi dati di Eurodata, il consumo medio di televisione nel mondo è di 184 minuti, in Italia è comunque altissimo, l'Italia è uno dei paesi dove si consuma più televisione, sono 240 minuti al giorno, con un incremento di 10 minuti, non so se poi Giorgio confermerà, smentirà questi dati rispetto al 2003, questi sono dati del 2004, ma insomma il consumo aumenta, però c'è una sempre maggiore frammentazione dei modi di consumo della televisione, frammentazione nel senso che aumenta il numero dei canali, quindi questo è un dato, centinaia, decine di canali ormai a disposizione dell'utente medio, non più solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia. Quindi molteplicità dei canali e molteplicità delle piattaforme, cioè la televisione che arriva all'utente su tutte le possibili piattaforme, voglio dire quasi ormai scontato dirlo, sul mobile, su internet, quindi cambiano le modalità di accesso ai contenuti. Allora, la moltiplicazione dei canali ha due conseguenze, da un lato diminuisce il peso storico, l'importanza che ha avuto la televisione generalista, è successo negli Stati Uniti già dal 1996, quando le televisioni via cavo, per la prima volta hanno superato l'ascolto dei network. E con una conseguenza ancora abbastanza importante per il mercato pubblicitario, perché ormai in tutte le tavole rotonde, da Business Week all'Economist, c'è questa riflessione, questa analisi di come stia crollando il modello di televisione basata sullo spot, sulle interruzioni pubblicitarie, di come la comunicazione pubblicitaria cerchi altri modelli, altre strategie, dal product placement a nuovi modelli di marketing per arrivare all'audience. Insomma, la televisione generalista non è più l'unico strumento per comunicare marche e prodotti, ma marche e prodotti vengono comunicati attraverso una molteplicità di canali e di piattaforme. Sei molto tecnica, questo ci fa molto piacere qui a Digit. In realtà, no, no, va benissimo, ci mancherebbe, ti abbiamo chiamato per non far nient'altro di quello che sei e che fai, quindi ci mancherebbe. Ecco, però c'è da dire che poi spesso accade, anche in altri mezzi, che tra la tecnologia, quindi quella che viene messa a disposizione poi degli utenti, e il reale utilizzo, le reali offerte, c'è in genere una bella differenza, allora si può teoricamente accedere via Wi-Fi dappertutto, di fatto non accade, perché il Ministro delle Comunicazioni ha liberalizzato le frequenze pochi giorni fa praticamente, e così via. Anche nella televisione è un po' così. Allora, l'interattività c'è già tecnicamente, in realtà siamo all'inizio, e quindi la domandona forse è, a questo punto la rivolgo a Mascitelli, ma quando si parla di televisione, oggi io faccio fatica a rispondere quando ad esempio mi chiedono, ma da utente, da telespettatore, ma tu guardi la televisione? E io non so cosa rispondere, perché in realtà io guardo solo un certo tipo di televisione, in genere non guardo la televisione generalista, guardo quella un po' più verticale, e quindi rispondo no, ma sì, allora sì o no, dipende, guardo un'altra televisione, cosa è oggi la televisione, in questo senso? Ma questa, l'introduzione che lei ha fatto, è assolutamente giusta, e la condivido. La televisione, per come la conosciamo, è un media molto preciso, con dei caratteri, che prevede, non tanto una certa tecnologia, ma questo media prevede una certa attitudine dell'utente, se noi guardiamo il media, dal punto di vista dell'utente, vediamo che l'utente di linea televisiva, è un utente che sta seduto, giustamente, la tv non si guarda in piedi, è assolutamente rilassato, cerca di far succedere le cose, senza il suo intervento, per quello, l'interattività, che è disponibile ormai da tanto tempo, anche se in forma molto ridotta, poi non è così, non è così, spinta poi dal mercato, perché, quando l'utente si siede davanti al televisore, anche se un attimo prima, come lei, stava digitando, i tasti di un computer, quindi era molto attivo, stava facendo una ricerca, su internet, quando poi si siede davanti a un telegiornale, dice, beh, adesso raccontatela, adesso ho fatto la mia parte, e ditemi le cose, al massimo, la sua interattività, per ora, nel 2005, arriva su un tasto di un telecomando, che è stata già una grande rivoluzione, e questo telecomando, fino a pochi anni fa, conteneva 10 canali, oggi è un problema, perché oggi abbiamo 300, 400 possibilità diverse, per chi è abbonato a un paio di possibilità satellitari, per cui anche la scelta diventa un problema, e spesso si resta nei 10, 15, 16 canali preferiti, diciamo così. Prima di passare la parola a Grignaffini, una breve replica di Laura Tettamanzi, perché so già che su questa questione dell'interattività, qualcosa da dire. Ma sì, la cosa che mi viene da dire, sì, tendenzialmente è vero, nel senso che la massa, l'audience di massa, insomma, se il termine massa, ancora insomma, un po' un significato, è tendenzialmente passiva, noi facciamo dei discorsi per delle nicchie avanzate, allora, quello su cui sto lavorando in questo momento, sono i contenuti prodotti dagli utenti, e mi sembra molto, come dire, l'aspetto più interessante, forse in questo momento, che si passa da una logica in cui, il consumatore, è un consumatore assolutamente passivo, nel senso che fruisce di contenuti necessariamente, prodotti da realtà editoriali, a, non so, un universo in cui, ormai, ognuno di noi, come sostiene Michele Mezza, in internet, la madre di tutte le tv, diventa un'emittente televisiva, se voi andate sul sito di Creative Commons, no, questa organizzazione fondata da, da Lores Lessig, che rinegozza, di cui avrete sicuramente parlato, no, ci sono decine e decine di video, prodotti dagli utenti, però quando noi, io ovviamente non posso che essere neutro, ma allo stesso tempo attento, quando noi guardiamo internet, in senso televisivo, ad esempio questo programma va in onda anche in internet, però ci trasformiamo in passivi, cioè abbiamo solo scelto il canale, virtualmente abbiamo fatto play, e poi ci siamo riseduti, non interagiamo, per cui, trasmettere in internet, non significa interattività necessariamente, no? Non mi riferivo solo a quello, per esempio la BBC, ha creato tutta una serie di nuovi programmi, in cui, in realtà prodotti dai giovani filmmaker, addirittura prodotti dal pubblico, dalla gente comune, c'è una parte del sito della BBC, che si chiama One Minute Movie, in cui il pubblico diventa fornitore di contenuti, è un'altra forma di interattività, però possiamo parlare di due interattività diverse, forse, ma ci sei, cioè una è il telespettatore che interagisce, in qualche modo con il programma, e l'altra è il telespettatore che interagisce, fornendo contenuti, però lo fa in momenti diversi. In realtà esistono tante realtà, è un momento in cui la società è fatta di tanti strati diversi, per cui convivono insieme tante attitudini diversi, ma noi stessi abbiamo diverse attitudini, per quello è importante distinguere da media a media, io parlavo prima di cominciare il programma di Home Theater, di quanto è bello vedere un film in casa, con un sistema evoluto, oggi la tecnologia ci permette, ma non c'è niente, 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 nessuna tecnologia che possa riprodurre l'emozione di una bellissima sala cinematografica, dove c'è uno schermo di 25 metri, dove c'è l'emozione di chi ha paura, oppure si emoziona di fianco a te, il cinema è un media che ha certe caratteristiche, quando tu entri nel cinema, ti adatti a quel tipo di media, o sei pronto per quel media, l'hai scelto, quindi sei al buio, rispondi al cellulare, la tv è un altro media, la tv dentro internet, non è la televisione, è un'altra roba, quando io la porto dentro internet, la metto su un pc, e col pc sto lavorando, e la mia attitudine è completamente diversa, quindi magari sono anche disposto ad essere fortemente interattivo, per esempio c'è tutto un mondo, su cui ho lavorato qualche anno fa, e che non è ancora esploso, quello dei video veramente interattivi, che sarà pronto per i nostri figli, per gente che già è così veloce, con l'occhio e con la mano, da riuscire a bloccare un'immagine, in una frazione di secondo, e scegliere di quell'immagine, che è piena di migliaia di elementi, una cosa che ha visto, e su cui vuole delle informazioni, la tecnologia c'è già, noi ce l'abbiamo nella nostra azienda, già da 7-8 anni, ma non viene usata, perché questa generazione non è ancora arrivata al potere, diciamo così. Infatti il problema è questo, è un problema culturale, anche nel divario digitale, di cui peraltro parleremo nei prossimi giorni, il problema è culturale. Allora, la televisione in questo caso, invece Grignaffini rappresenta la televisione, per me corregga se sbaglio, generalista, ma addirittura la convergenza, qua c'è, poi lei si occupa di fiction, quindi il cinema in qualche modo in tv, cosa ne pensa Grignaffini? Beh, in generale, penso che si possano dire due cose, riguardo al problema della televisione del futuro. La prima è che, come sempre, credo che non bisogna mai pensare in termini di tecnologia al di fuori degli usi sociali che se ne fanno, quindi credo che, come bisognerebbe sempre interrogarsi, non tanto di cosa la tecnologia farà alla comunicazione, ma di cosa gli utenti faranno con le tecnologie, e questo credo che sia sempre molto difficile da prevedere, perché abbiamo visto in tante occasioni negli ultimi decenni che le persone poi utilizzano in modo molto diverso da quello che gli ingegneri immaginano le tecnologie, questo secondo me è sempre un dato importante. Dall'altra, credo che bisogna anche pensare che la televisione del futuro, però, avrà comunque sempre bisogno di grossi investimenti, per, almeno sto parlando di un certo tipo di televisione, quella, per esempio la fiction, il cinema, grossi investimenti, perché la qualità produttiva si fa con tanti soldi, tanti soldi si fanno con tanti spettatori, con un grande bacino d'utenza, con un grande... Eccoci qua. E quindi alla fine, come dire, va bene la moltiplicazione dei canali, va bene la interattività, sulla quale poi, vorrei dire qualche cosa, perché sulla fiction in particolare ci credo molto poco, però bisogna avere i soldi per fare i grandi effetti speciali, per pagare le grandi star, per creare il sogno al quale la gente poi vuole... Perché i costi poi, insomma, facciamo tutti la televisione, i costi di produzione non sono poi quelli che, no, che permettono ad esempio l'apertura di un sito internet, o piuttosto che una webcam con... Sì, la creatività a volte permette di realizzare buoni prodotti anche con pochi soldi, tuttavia... Anche perché poi in realtà con tutte queste innovazioni tecnologiche come l'home theater, l'alta definizione, quando ci sarà, come dire, vale la pena se c'è un contenuto pregiato, se devo vedere un talk show come il nostro posso vederlo anche via internet, non mi perdo la scenografia, non mi perdo i costumi, non mi perdo le musiche, me le perdo se vedo il Signore degli Anelli. Allora a quel punto, come dire, sono un mondo di... Ecco, ma diceva che non crede a... All'interattività... All'interattività... All'interattività ci credo molto poco perché credo che il mondo del racconto sia un mondo che la persona da sempre, adesso non vorrei fare un discorso antropologico, però credo che il racconto sia un qualcosa che le persone hanno sempre voluto sentirsi raccontare da qualcun altro. E basta. però così ci proviamo con il televoto, però ecco... Sul digitale terrestre? No, no, sulla televisione... Ah, quel televoto, certo. Sì, sì, sul canale 5. Ci sarà la possibilità di scegliere il finale perché il protagonista dirà a un certo punto voi cosa fareste in questa situazione? Ci saranno due scelte e a seconda della scelta si vedrà una fine o l'altra. Piccolo esperimento, però non credo che si possa allargare e diventare la ragion d'essere del prodotto fiction. Questo è il mio punto di vista. Prima di passare alla pubblicità, Gianluca Rintocchini. Molto felice che si passi alla pubblicità. No, devo confermare le cose che si sono dette. La mia opinione è che il futuro della TV in sostanza sarà determinato dalle nuove tecnologie, telefonini, internet e poi dalle abitudini delle persone soprattutto. Perché le nuove tecnologie ci consentono di fruire della televisione in diversi momenti della giornata. Già oggi ci sono dei dati su come le persone utilizzano i telefonini per vedere la televisione. C'è già un pubblico che guarda la televisione sui telefonini. Però poi è determinante anche l'abitudine delle persone, la cultura e l'approccio delle persone verso queste nuove tecnologie. E quindi poi bisognerà pensare anche ai contenuti adatti a queste nuove tecnologie, a questi nuovi strumenti. Sarà un po' la convergenza e il mix di questi due fattori che determinerà come sarà la TV del futuro. Sicuramente ci sono tanti esperimenti molto interessanti. È giusto anche sempre ritornando alle nuove tecnologie si stanno, soprattutto danno opportunità di nuovi canali, quindi di un'offerta sempre maggiore e soprattutto di iniziative nuove, di nuovi esperimenti che mettono a prova le potenzialità. Sicuramente siamo in un periodo in cui la televisione cambia. Sta cambiando infatti. E ci sono tante alternative, probabilmente si dovranno consolidare anche dei nuovi modelli, dei nuovi modelli di business, anche perché come si diceva è anche una questione di risorse e quindi i nuovi progetti devono anche dimostrare di sostenersi economicamente. E quindi è giusto anche provare, sperimentare. Oggi c'è un panorama di progetti molto ampio, poi alcuni avranno successo, altri meno. Questo è importante, perché poi il fattore è le risorse e quello che poi il pubblico gradisce. Assolutamente sì. Proprio per questo un po' di pubblicità e ci vediamo tra meno di un minuto. Nuove stampanti Epson Foto. Foto da vivere, non solo da guardare. Mamma, 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 mamma. Vieni, guarda, parla già. È iniziata una nuova era. Vuoi che ti dia qualche informazione? Il nostro sito parla. Speakage.com, the new age of the spoken web. Grazie di essere ancora con noi in questo lunedì sera in cui su ATV e quindi su DigiTalk si parla di televisione, quella del futuro. Allora, stavo chiedendo prima a Giorgio Grignaffini durante la pubblicità, ma Tivo, che è questo videoregistratore insomma che negli Stati Uniti ha molto successo e che elimina la pubblicità. Prima domanda. Seconda cosa mi risponde? Ha un'altra domanda e le faccio anche la seconda. PVR, Personal Video Recorder, che cosa le dicono queste due? Certo, si tratta di... Vado e retro diremmo per chi fa televisione commerciale e quindi vive di pubblicità dentro i programmi. È chiaro che questi sono scenari nuovi che sicuramente penso che ci si stia lentamente confrontando anche se il pericolo non essendo ancora arrivato in casa l'allarme è meno pressante di quanto possa sembrare. Credo che per chi produce contenuti tutto sommato non è così preoccupante. C'è nel senso che per chi poi com'è il lavoro diciamo più vicino a quello che faccio io, per chi deve progettare nuovi programmi, nuove storie, nuovi modelli di intrattenimento in qualche modo il fatto che ci sia meno pubblicità è meno importante. È più importante per chi mette insieme i pezzi di un'azienda e la deve fare andare avanti a livello economico. Quindi sicuramente è una preoccupazione che credo che sia stata affrontata e sarà affrontata. non credo che andrai ad impattare in modo così netto chi poi invece concretamente produce i famosi contenuti che poi bisogna servono a riempire. Da fruitore di video on demand perché ai miei tempi ma non sarò l'unico per quello che è successo a prescindere da pubblicità proprio per questo dicevo da fruitore di video on demand non sono disturbato dalla pubblicità sempre mettendomi dalla parte dell'utente ma semplicemente non riesco a vedere quel programma in quella determinata ora finito poi Tivo ti dà anche quella possibilità bisogna vedere tra l'altro se in Italia ce la farà perché negli Stati Uniti hanno standard diversi. Ecco tornando all'interattività perché io una risposta come digital la vorrei per lo meno da ognuno di voi cioè il futuro tra dieci anni considerando sia il divario culturale in certi sensi colmato quindi comunque una generazione non completamente rinnovata ma quasi insomma si interagirà con la televisione e si potrà ancora chiamare così quell'apparecchio? Ma io non so cosa accadrà chiaramente se non sarei qua se lo sapessi posso vedere cosa farò io ecco no pensando di essere un italiano medio beh con tutte le cose che ho da fare tutto il giorno tutte le decisioni che devo prendere tutte le volte che devo in qualche modo ricercare cose fatte e persone vorrei dei momenti della mia giornata in cui non devo fare altro che premere un tasto e poi che qualcuno mi parli in maniera abbastanza dolce e rilassata quindi io prevedo per la televisione così come la conosciamo che grandi cambiamenti non ce ne saranno insieme a questo ci saranno altri prodotti multimediali quindi che sfrutteranno l'audio video che non sono televisione che saranno fortemente interattivi con cui magari entrerò nella mia banca come posso fare adesso con internet entrerò nella mia casetta di sicurezza la aprirò a distanza vedrò cosa c'è dentro oppure parlerò con una con una signorina virtuale che mi racconterà quanti soldi ci sono nel mio conto corrente di questo sono certo sarà tutto molto molto interattivo ma la mia televisione per cortesia dopo striscia lasciatemi un paio d'ore tranquillo un paio d'ore tranquillo bene bene detta manzi cosa si fa si interagisce o no? beh io devo fare un po' la tedofora dell'interattività per forza allora vabbè quello che ci viene l'insegnamento che ci viene dallo scenario inglese che è un po' lo scenario che noi tutti esperti andiamo a studiare perché lo scenario è più evoluto con 10 milioni di abbonati alla tv digitale l'interattività è una componente ormai ininibinabile della televisione per gli inglesi il famoso red button il bottone rosso è un qualche cosa che anche la signora di una certa età ormai conosce durante il live aid BBC ha trasmesso il live appunto dei concerti un milione e mezzo di spettatori hanno cliccato sul pulsante rosso e si potevano vedere le diverse città in cui si svolgevano i concerti è vero che l'interattività funziona per i contenuti che vengono percepiti dagli utenti come utili in Inghilterra le scommesse si scommette tantissimo via televisione la pubblicità interattiva funziona perché ti dà dei benefit non solo più informazioni sul prodotto ma la possibilità di avere dei campioni per esempio omaggio funzionano tutta una serie di contenuti che vengono percepiti come utili qualcosa che ti fa risparmiare tempo o come contenuti di intrattenimento aggiuntivo secondo me voglio dire uno scenario non molto diverso si verificherà tra un po' di tempo anche in Italia anche se il mio personale punto di vista è che l'interattività come dire sempre pilotata dal broadcaster è una cosa molto diversa dalla vera interattività della rete la vera interattività voglio dire ce l'hai solo sulla rete un qualcosa di aggiuntivo rispetto a un modello di fruizione passiva brevemente volevo spiegare attraverso te e ai nostri telespettatori quali saranno le caratteristiche interattive della televisione di cui stiamo parlando ovvero bottone rosso poi quattro possibilità in genere perché insomma si discute su quanto davvero poi sia interattiva non essendoci il canale di ritorno ovvero la possibilità di inviare dati per esempio in Inghilterra perché gli utenti di Sky interagiscono perché Sky nel contratto di Sky tu sei obbligato a connettere il decoder alla linea telefonica quindi sei in un certo senso portato ad interagire in Italia questo non succede insomma perché l'installatore non te lo chiede neanche ma anche perché il filo del telefono non arriva dove arriva il decoder sono due posti in genere sono in due posti diversi però insomma i modelli di interattività sono il modello che possiamo vedere sul digitale terrestre di Enense TV arricchimento dei contenuti del programma quindi più informazioni testuali però doveva essere un po' tecnico più informazioni testuali oppure il multiscreen insomma ecco multiscreen cioè quindi la possibilità di ricevere più contenuti visivi quello che ti fa vedere Sky con i goal per esempio della domenica in cui puoi vedere quello che succede su diversi e poi spazio la creatività per trovare anzi stanno cercando informati interattivi come oggi si è alla ricerca di questo per andare a scoprire se questa scommessa si vincerà oppure no certo o se no è l'universo dei servizi interattivi che vanno dall'onbanking al t-commerce a quant'altri mai sono due modelli abbastanza diversi che utilizzano in genere la parte televideo del digitale terrestre che utilizzano sì non solo la parte televideo comunque è indispensabile avere una connessione telefonica mentre per la televisione arricchita tra virgolette non è indispensabile la connessione telefonica per attivare un vero servizio interattivo quindi il collegamento con un centro servizi è assolutamente fondamentale avere la via di ritorno se oggi si parlasse di digitale terrestre si è già fatto in una puntata scorsa ti chiederei ma come mai non hanno messo una sim al posto di però se la risposta è breve ok se no ci fermiamo come mai non c'è una sim card e il wireless in sostanza dentro i decoder distribuiti almeno nell'ultimo anno sia di digitale terrestre sia di è una domanda a cui onestamente io non so rispondere sarebbe un bel modo per risolvere il problema l'interazione non sarà l'unico modo non sarà il modem interno saranno vari modelli di interazione che vanno dal wireless c'è un problema di banda anzi secondo me il modello wireless sarà quello vincente rispetto al modello della connessione c'è un problema di banda perché l'interattività ha bisogno di bande anche nel caso degli inglesi poi le cose che si possono fare rispetto a un utente abituato su internet sono veramente poche perché l'interattività mangia tantissima banda ciò che in inter è praticamente infinito perché basta acquistarne per averne di più di capacità di connettività nel mondo della televisione questa banda è finita c'ha un inizio e una fine e la banda è sempre piuttosto stretta anche il digitale terrestre per quanto abbiamo moltiplicato la banda dell'analogico per 4, 5, 10 volte questa disponibilità è tuttora molto bassa se un canale diventa fortemente interattivo mangia la capacità di altri 10 canali certo perché per esempio deve trasmettere 10 contenuti bisogna abituarsi a un'interattività un po' surrogata parlando comunque di etere cioè di televisione via satellite piuttosto che via molto diverso il discorso dell'etere dal satellite cioè nel digitale terrestre la banda è limitata ma nel satellite hai molta più banda sì anche lì però c'è un limite nel senso c'è il limite di quello che contiene questo apparecchione insomma non è è comunque se 10 canali satellitari fossero interattivi tutto l'intero satellitone resta saturo finirebbe su 10 canali finisce interattività non necessariamente si deve limitare ad un'unica piattaforma nel senso io posso veicolare un programma e poi raccogliere feedback per esempio da internet in televisione per esempio l'esperienza che stiamo avendo con Digitalk con il blog di Digitalk va in questo senso il programma va in onda in televisione e poi anche sul blog dal quale possiamo raccogliere feedback e commenti dai telespettatori si possono citare tantissime esperienze di questo tipo non necessariamente l'interattività deve funzionare sul satellite piuttosto che solo sul digitale terrestre piuttosto che l'IPTV insomma però a questo punto siamo tornati alle piattaforme i contenuti li abbiamo un po' lasciati fuori ritornando ai contenuti e guardo sempre Grignaffini non per altro ma perché insomma magari sulle piattaforme le conosce perfettamente ma insomma non ci lavora tutti i giorni mentre sui contenuti si ecco e come vengono riprogettati su cosa un esempio me l'ha già fatto questa fiction si in questo caso c'è una fiction in cui c'è questa possibilità di interazione è chiaro che bisogna capire che quando si parla di interazione che cosa si intende perché per me interazione c'è quando dicevo che ci credo poco in qualche modo perché intendevo un senso forte di interazione cioè qualcosa che possa retroagire sul programma ma sul contenuto del programma stesso cioè un qualche cosa che lo spettatore fa e che cambia il corso del contenuto in qualche modo quindi un'informazione e quindi sì chiaramente acchiosa sì nel senso non una informazione aggiuntiva un di più che sicuramente sarà il futuro perché credo che tutti possono avere qualche cosa in più lo chiedevano però non parlerei proprio di interazione cioè almeno parlerei di interazione debole potremmo chiamarla invece sul discorso dei contenuti poi c'è da parlare dei generi nel senso che ci sono generi probabilmente dove si sarà più spazio e generi in cui se ne sarà meno sicuramente i reality show sono nati interiorizzando nel loro meccanismo di format il televuoto e quindi il fatto che effettivamente in un qualche modo le persone decidono credono pensano di poter decidere con chi vogliono passare il proprio tempo davanti alla televisione poi cambia anche il modo in cui si consuma il tempo nel senso che ad esempio Lost che è una serie oggi è stata venduta ormai viene distribuita anche sui cellulari ma viene tagliata in modo diverso perché così l'utente guarda mini format a due minuti cioè è cambiato proprio è stato sconvolto infatti per quello che dico che dipende molto dai generi perché alcuni generi nascono interiorizzando i meccanismi di interazione altri come la fiction credo che più difficilmente potranno farlo nel senso che soprattutto se si parla di fiction o di grande cinema o comunque di fiction che ha l'ambizione di essere ricca e cinematografica perché allora probabilmente il plus di questi prodotti è nella ricchezza degli effetti speciali nelle storie su altri prodotti invece più piccoli più pillole forse si potrà lavorare in termini anche interattivi quindi anche lì bisognerà distinguere tra format tra generi diversi per cui anche l'informazione potrà essere più interattiva forse di altri di altri generi è finito il tempo partendo da Gianluca Tocchini una breve chiusura insomma una battuta di chiusura e visto facciamo un giro di tavolo veloce ma non si può dire si può difficile dire cosa sarà la tv del futuro sicuramente noi con il tv stiamo facendo tantissimi esperimenti non solo parliamo di tecnologie sui tv The Technology Channel ma le utilizziamo anche per progetti molto innovativi ne cito l'ultimo che è partito la scorsa settimana in collaborazione con Macadam abbiamo creato Macadam TV che è la televisione fatta con i cellulari i cellulari di ultima generazione contengono delle telecamere che fanno riprese in qualità VHS e ormai noi possiamo mandare in televisione video fatti con i cellulari a pieno schermo e con questo raccontiamo delle storie bellissime e qui contenuti partecipativi di cui parlava Laura Tettamanzi a te la parola ma allora tv del futuro io vedo due modelli una televisione che va verso due modelli rich television grandi schermi grandi contenuti ricchi e light television una televisione voglio dire prodotta che può essere fruita su tutte le piattaforme su internet eccetera e l'altra cosa che ti volevo dire è come dire una televisione ricombinata dagli utenti questo è un po' rispetto alla televisione passiva io ci credo tantissimo il cut and paste dei contenuti Giuseppe Maschitelli invece voi mi diranno un channel che tra l'altro ecco c'è una storia lunga a raccontare magari un'altra volta non abbiamo più tempo ma se dovessi fare una chiusura filosofica direi che questi ultimi 50 anni la televisione ci ha cambiato la vita ha cambiato le nostre abitudini ci ha fatto diventare soprattutto in Italia molto diverse da come eravamo prima io penso che adesso sono gli uomini che cambiano la televisione cioè la televisione si adatterà una sorta di rivoluzione antropologica a come è fatto veramente l'essere umano e quindi avremo tante tv diverse sicuramente le due che diceva la signora prima forse ancora di più ancora sotto modelli e ci sarà posto per tante cose diverse interattive passive ci sarà un po' di tutto Giorgio Ghignaffini sì credo anch'io che sicuramente non è pensabile un modello unico la cosa che credo ancora sarà comunque importante sarà la capacità della televisione comunque del contenuto audiovisivo di trasmettere emozioni e di trasmettere quindi un calore un senso di passione che è comunque un elemento credo fondamentale per il successo e anche per giustificare il fatto che si si passi anche davanti tanto tempo alla televisione ho capito vi ringrazio ringrazio Giuseppe Mascitelli ringrazio Giorgio Ghignaffini ringrazio anche Laura Tettamanzi e Gianluca Rintocchini per essere stati con noi e per averci dato qualche idea in più anche se in mezz'ora siamo riusciti insomma a raccontarvi quello che si poteva fare ecco in 30 minuti ma ecco Luca quindi grazie di essere stati con noi noi ci vediamo come sempre ogni sera alle 23 su Digitalk domani si parla di Digital Divide un tema importante perché insomma oggi anche la televisione che viene trasmessa ad esempio su IP ha bisogno poi della banda disponibile come tra l'altro diceva Mascitelli prima quindi io vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani sera come sempre sul sito digitalk.tv arrivederci buona serata un saluto un saluto un saluto Grazie a tutti